eeeh posso fare un applauso io a voi per questa sera prima data del futuro già e io andrei comincerei, posso parriciare? chiamerei Gaia 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 chi si è pescato? vacanze con i miei vacanze con i miei, grazie Gaia e l'uomo gli risponde ma si ma si come fa vabbè gentilmente dovrei insufruire le palle di una roma e... buffe! ci sono diverse tipologie di persone davanti al buffe la prima tipologia di persone sono i geometri chi sono i geometri signore? un nuovo bigliettino della serata prima del graffinare Gaia 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 si quando piaccia un vento l'intraverso, che non si, che non no, battersi! a fare il verso lavorare senza cura di gloria o di fortuna a qualsiasi più gratuito viaggio nella lune grazie a tutti!